Filmi del 1962, regista Dino Risi, attori Vittorio Gasman e Jean-Louis Trintignan. Ti ricordi il titolo? No. Il sorpasso, ti dice qualcosa? Certo, però domenica abbiamo fatto una buona partita, prima di tutto. Però guardiamo al futuro, guardiamo a questo Pisa Ascoli e a questo Teramo Spada. Ma sì, ma noi guardiamo sempre in casa nostra, guardiamo adesso da arrivare alla spalla, quindi ci dobbiamo preparare bene, è una grande squadra, con buoni giocatori in rosa, quindi abbiamo stati attenti a noi. Poi vediamo che succede dall'altra parte. Potrebbe essere la settimana buona, considerato anche il fatto che loro giocano di venerdì e voi giocate di domenica, non è capitato molte volte quest'anno? Sì, infatti è capitato poche volte. Potrebbe essere, però ripeto, noi dobbiamo essere concentrati sulla nostra partita, su quello che dobbiamo fare noi domenica e basta. Poi ripeto, vediamo che succede. Il sorpasso in questa fase del campionato potrebbe quasi essere decisivo? Sì, ma è ancora presto, secondo me. Ci sono ancora tante partite e tanti scontri diretti, quindi è ancora presto. Poco è sicuro e non perdere il passo, quello è sicuro. Quindi, ripeto, dobbiamo continuare a fare sempre risultato con tutte. La Spada è un avversario diverso rispetto a quello che avete affrontato all'andata? Penso di sì. A me all'andata, soprattutto il primo tempo, è piaciuto molto. Poi al secondo tempo abbiamo fatto una grossa partita a noi e la potevamo anche vincere lì. Però mi ha fatto una grande impressione. Poi si è rafforzata con un giocatore come Zigone, che bisogna tenere molto d'occhio. Sarà sicuramente un avversario diverso, però anche noi siamo diversi dall'andata.